Sospese tra il tichettio delle gocce che scivolano lungo le stalagmiti della grande grotta del vento, le note jazz di un sax accompagnano i canti medievali del concerto Ficium Divinum, alle grotte di Frasassi. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Marco Mencoboni e Gavino Murgia, vuole rendere omaggio, grazie anche alla collaborazione dei cantanti solisti del complesso Cantar Lontano, al lavoro del sassofonista Ian Garbarek e del complesso vocale Iliard Ensemble. Noi presentiamo un progetto che è stato prodotto dall'ICM nel 1994 come solista Ian Garbarek e come gruppo polifonico Iliard Ensemble. È un progetto che non viene più proposto in concerto perché gli Iliard si sono completamente ritirati dalle scene e quindi abbiamo parlato di questa opportunità e noi continuiamo a portare in giro questo progetto che nel frattempo è cambiato, il suono è diverso, ci sono le voci un pochino più mediterranee di quelle che potevano essere le voci inglesi. Il progetto Ficium Divinum ha segnato un punto di svolta nel mondo della musica contemporanea, realizzando il primo crossover tra la musica cosiddetta colta e il jazz. La risposta del pubblico è sempre straordinaria, bellissima, appunto trovano questo contrasto incredibile tra la musica antica e il jazz e un'incursione anche di voci gutturali da parte del sottoscritto, trovano affascinata questa commissione, questa mistura. Un'unione che ancora non smette di affascinare il pubblico e da cui nascono anche nuove idee. Stiamo, ho pensato di elaborare ancora di più questo progetto, quindi con delle altre composizioni, studiando dei contrapunti particolari tra le nostre vocalità e quella di Gavino. Un disco? Sì, stiamo progettando un disco, lo spettacolo questa sera diventerà un DVD. E poi c'è anche questo tentativo di portare le nostre voci mediterranee, però colte, diciamo così, a cantare un po' a tenores. Questa è una cosa che abbiamo provato ieri, l'altro ieri, l'abbiamo provato nell'androne delle scale del mio palazzo, funziona perfettamente, quindi sarà una nuova sfida.